Si è conclusa la somministrazione della prima dose del vaccino anti-covid in tutte le 39 strutture residenziali e semiresidenziali nel territorio dell'Ulss 7 Pedemontana. Complessivamente sono state somministrate 3.772 dosi, 1.917 ad altrettanti ospiti e 1.855 agli operatori. Per tutti è già stato programmato il richiamo. Il tasso di adesione ha superato il 90% tra gli ospiti e il 66% tra gli operatori, grazie a un lavoro capillare iniziato il 31 dicembre e da allora portato avanti senza soste, festivi e prefestivi inclusi. Il commissario Bortolo Simoni ha speso parole di ringraziamento per il personale impegnato in questa fondamentale campagna di vaccinazioni. Simoni sottolinea infatti come questo sia un passo fondamentale verso la messa in sicurezza di una delle categorie più fragili e più colpite dal virus.